Ad uno stadio come quello mio, dove ancora non sono in quelle condizioni e spero di non arrivarci, l'unica cosa che posso consigliare è di evitare fumo, ambienti polverosi, cercare di evitare le malattie di raffreddamento o questo genere di cose, di evitare le correnti d'aria. Tenuto conto che quella malattia non guarisce, si può solo tamponarla e l'unica cosa da fare è accettare, accettare che questo è, vediamo, di non aggiungere altro, forse ci vorrebbe un po' di ginnastica respiratoria. Il problema maggiore è quello di chi ce l'ama non sa di averlo e quindi la sensibilizzazione dovrebbe essere più che altro in quella direzione perché chi ha già la patologia la sta già affrontando e comunque più di tanto non si può fare, si tratta di accettare e cercare di impeggiorare. Mentre persone che non ne sono una conoscenza possono peggiorare senza, ed avere modo di fermarsi prima. Se la vedo depressa le dico guardi, guardi che io ho 5 anni e sono ancora viva. Se una fa, per esempio, che va con la bicicletta nei paesi, ecco, la prima pedalata che si sente che fa fatica di fermarsi e andare subito a fare degli esami di accettamenti giusti. Di trovare una pneumologa che la segua, di fare un percorso presso una persona che effettivamente ne valga la pena e abbia fiducia, perché poi la fiducia è la base di tutto. E poi sarà la pneumologa stessa a dire si comporti così piuttosto che cosa, perché dipende anche da quanto è la malattia, da quando la prendi, no? E quindi se la prendi prima puoi mettere per dire anche queste valvole che sono anche molto risolutive. Chi ha potuto rimediare e quindi arrivare in tempo, perché si tratta anche di una questione di tempo, può vivere meglio, ecco. Il consiglio è accettarla, riconoscerla, farla riconoscere e non è facile accettare i propri limiti, perché accettare i propri limiti significa anche doverli dichiarare, però non farsi sopraffare, cioè cercare comunque di conviverci al meglio delle proprie possibilità. Poi io penso che una cosa importante sia quella del mantenere l'esercizio fisico, insomma mantenere, muoversi, insomma, e lì c'è il famoso circolo vizioso, per cui si è senza fiato e quindi si evita di camminare, si evita e quindi si va sempre peggio. E devo dire però che da questo punto di vista i medici dovrebbero anche sollecitare di fare quanto più esercizio fisico possibile, esercizio ovviamente compatibile con le proprie possibilità, però insomma farlo. E quindi questi sono gli esercizi, i consigli che io potrei dare a una persona. Direi di non scoraggiarsi, ecco perché il trauma al momento c'è, l'ho avuto anch'io, però di non scoraggiarsi, di cercare un centro competente, di mettersi nelle mani di una persona e sempre sia quella che la segue, anche alle persone giovani, anzi a maggior ragione alle persone giovani, dico di non scoraggiarsi, assolutamente, qualche volta ti fa vivere un po', un po' duramente perché quando ti manca il respiro, ti manca il respiro e c'è poco da fare. Vorrei proprio che anche chi soffre di questa cosa mi sentisse e se non ha altri acciacchi è una patologia che si può affrontare con serenità, se seguita bene.